Accogliamo con un grande applauso una delle colonne portanti della comicità italiana, signore e signori, Leonardo Manera! Grazie. Arrivederci. Alla fine non si può avere un applauso migliore. Dunque, io sono Leonardo Manera, appunto comico brillante, diciamo. Si sente il microfono? Sì, bene? Perché mi hanno detto vieni a Vignale che non ci sono soldi ma la situazione tecnica è ineccepibile. Allora, no, invece si sente, allora questo... Beh, io prima di cominciare dico sempre una battuta così per rompere un po' il ghiaccio, la dico anche stasera, si intitola dal medico. che uno va dal medico e quando torna a casa i familiari dico, ma il medico non ti ha scritto la ricetta completa. Perché? Perché sulla ricetta c'è scritto prendere della vitamina E. visto che è piaciuta parecchio, c'è stata una risata un po' a macchia di leopardo, ho visto che qui se la stavano spiegando. Questo è un po' mi amareggia. Ne direi un'altra che si intitola il commercio ai tempi del Medioevo. Durante il Medioevo un cavaliere vada, un artigiano, c'è artigiano, vorrei uno scudo. Ecco, quant'è? Due scudi. Sarà un intervento di un certo livello. Al maneggio, vorrei un cavallo da montare. No, no, già pronto. Proviamo con una che è anche un retroterra culturale. Vita di Giuseppina Buarne. Cioè, mamma, mi sono innamorata di Napoleone. Ah, e ti piace tutto di lui? Ma, buona parte. Allora, questo è un periodo di crisi, lo sentiamo dire ormai tutti i giorni. Io l'ho anche sperimentato personalmente, perché alcuni anni fa avevo comprato in banca un fondo tutto di azioni. L'anno dopo dovevo vendere queste azioni in banca e mi hanno detto tienile, sono un affare. Le ho tenute. L'anno successivo le vendele e mi hanno detto tienile, sono un affare. Ormai faccio fatica a vendele e mi hanno detto tienile. Sono un ricordo. E quando ci sono problemi economici di vario tipo per trovare la felicità si ricorre alla felicità familiare, anche quella sentimentale o anche sessuale. Quindi vorrei sapere, vorrei che alzassero anzi la mano le persone fra di voi che pensano di essere felici dal punto di vista sentimentale, così, per avere un'idea. è una debacle. Pochissime, una minoranza assoluta. Ho visto quel ragazzo che stava alzando la mano quando la moglie gli ha schiacciato la schiena. Sembravano i big gym di una volta. Ma io lo dico perché adesso è una relazione, diciamo, stabile, un bambino di tre anni, ma prima, come tutti, ho avuto varie storie. In particolare è finita una, ho capito che non andava più bene perché quando facevamo l'amore lei mi chiamava Paolo, io mi chiamo Leonardo, ma lei dice che era un diminutivo. E allora quando finisce una storia d'amore? Appena è finita la prima settimana l'uomo pensa di poter stare con centinaia di altre donne. La seconda settimana pensa di poter stare con decine di altre donne. La terza settimana? Pensa. Pensa che è difficile perché la donna, secondo me, vuole un uomo tenero sul divano, ma duro sul letto. Poi è un casino quando sei sul divano letto e dici ma! E allora l'uomo comincia a curarsi fisicamente, fa gli addominali, cerca di non perdere i capelli per tornare a fare un po' di sano sesso, che è importante perché pensate che il portale di internet più frequentato è YouPorn nel mondo. Anch'io l'ho visto qualche volta, non tante, solo due o trecento volte. Comunque, l'ho visto alcune volte, il sesso è importante perché in questo periodo di globalizzazione è rimasto una delle cose artigianali che si possano fare. Non nel senso che si fa da sé, anche se a volte capita, insomma. Capita spesso. Capita quasi sempre, è inutile negarlo. Ma è artigianale perché non sapendo come lo fanno gli altri, riunioni di inventarsi il proprio modo di farlo e per noi esponenti maschili del genere umano è più difficile rispetto a molti altri animali, per esempio roditori, carnivori, anche molte scimmie, hanno all'interno dell'organo sessuale un ossicino che si chiama ospenis, che in latino vuol dire osso del pene oppure baculum, che vuol dire bastone, da cui deriva anche baccalà, che sostiene l'erezione, a sua volta sostenuto da un muscolo. Cioè l'altro animale maschio, non uomo, fa il muscolo, il muscolo fa erigere questo ossicino e il gioco è fatto, bello, facile. L'uomo no. L'uomo ce l'ha disossato. È un bel problema. Pensate che il tricheco, per esempio, è quello che ha l'ospenis sviluppato, ce l'ha di 70 centimetri questo ossicino e arriva a copiarsi anche 250 volte in quattro giorni, è per quello che ha sempre l'espressione un po' rincoglionita, così. Che 250 volte in quattro giorni è. Invece nell'uomo, nel maschio, tutto sta nei globuli, nel sangue, che deve confluire i globuli bianchi e rossi nei corpi cavernosi dell'organo maschile, che è una specie di spugna che assorbe e si erge. Quindi è importante che la donna mandi degli stimoli forti, altrimenti nel maschio, i globuli che sono lì tranquilli nel fegato, nel colon, nel pancreas, che è un po' la bocciofila dei globuli, nel pancreas i globuli sono lì tranquilli, così. Sono tranquilli. Sta lì e non arriva fino ai corpi cavernosi. Stimolo sessuale forte, che secondo gli essenziati, nell'arco dei secoli è sempre stato il fondoschiena femminile, cioè nel maschio, i globuli, ovunque si trovino, anche nell'alluce, per dire che è un po' la lampedusa del corpo umano, appena vedono un bel fondoschiena, prendono la prima arteria disponibile, senza neanche vertire la caviglia, e si precipitano nei corpi cavernosi. Infatti la donna ha sviluppato il seno quando l'ha sviluppato, non perché abbia una funzione fisiologica, perché per esempio le femmine scimpanze allattano col seno piatto, invece la donna ha sviluppato il seno quando nel corso dell'evoluzione si è passata la posizione a quattro zampe alla posizione a retta, per avere anche di fronte un'immagine che ricordasse quella del fondoschiena. Infatti quando una donna senza seno, vede una donna con molto seno, dice, che culo! E questa è una cosa vera e scientifica, diciamo. Ed è per questo che nelle pubblicità destinate a noi maschi sono sempre presenti le curve femminili, perché funziona così. L'uomo nella pubblicità vede un bel seno, atavicamente si ricorda il fondoschiena, tocca al suo, trova il portafogli e spende. Mentre il sangue emigra dal cervello verso i genitali, solo che una volta ottenuto lo stimolo bisogna anche soddisfarlo, che è ugualmente complicato, perché tu magari conosci una donna che ti piace, la inviti a cena a casa tua e devi convincere la donna a venire al soggiorno alla camera da letto. Poi devi convincere te per autostima di essere all'altezza della situazione e devi convincere i globuli a rimanere in zona. È una specie di dialogo a tre. Quindi la donna dice, vieni là, vieni là, a te stesso, sono un figo, ce la faccio. Speriamo. I globuli, state lì, state lì. Se poi lei ti raggiunge in camera, il dialogo diventa quattro, perché devi anche convincere i testicoli, diciamo, a non farsi prendere dall'entusiasmo. Ma poi, finalmente si fa l'amore, si fa l'amore in tutte le posizioni. Lui sopra e lei sotto, e poi lei sopra e lui sotto, e poi... Non me ne vengono in mente molte altre. Ma un giorno con quella donna con cui ti trovi così bene a fare l'amore, arriva il momento magico e felice del matrimonio. Propongo un minuto di silenzio. Chi di voi è sposato lo sa, il giorno del matrimonio si svolge più o meno in questo modo. È una bella domenica di primavera, alle 11 arrivano gli invitati, le donne con improbabili vestiti gialli, rossi, fucsi a bordeaux, vestiti che non metteranno mai più se non a un altro matrimonio o al funerale di Elton John. Alle 11.30 arriva lo sposo, è teso, sudato, preoccupato, più che per il matrimonio, per il vestito che gli hanno fatto indossare, color branzino del Mar Baltico, che non metterà mai più se non a un altro matrimonio o al funerale di Elton John. Alle 11.45 finalmente arriva Elton John. Dice, cosa ci fate con i vestiti del mio funerale? Alle 12.00 arriva la sposa, bellissima, con il suo abito bianco. Davanti all'altare lui e lei si scambia la promessa di fedeltà eterna. Gesù dalla croce li guarda e dice, padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Poi dopo il fatidico sì, gli sposi escono dalla chiesa e gli invitati tirano il riso. Nei momenti di crisi come questa fanno solo il gesto, il riso lo tengono per mangiare. Alle 14.00 si va a pranzo, il ristorante è situato in una frazione di campagna sconosciuta anche al navigatore satellitare. Molti invitati si perdono, vagano nelle campagne per ore, ma arrivano in tempo per il cenone di Capodanno. Un anziano arriva per prima e è ancora solo ma grida viva gli sposi. A mezzanotte il pranzo nuziale è un punto avanzato, gli invitati hanno aloni enormi sotto le ascelle, si sono slacciati le cinture, parlano a rutti, una specie di alfabeto morsi. quando la sposa fa il giro di tavoli per salutare gli invitati, molti uomini ormai devastati dall'alcol ci provano con lei parlando più o meno in questo modo. c'è anche il vicino di tavolo ma il marito disapprove dal fondo della sala la novella sposa prima resiste poi d'accordo a tutti perché guarda il marito e dice non posso stare per tutta la vita fedele a un branzino. Un anziano grida viva la sposa si getta su di lei è un principio di erezione contemporaneamente un'ischemia cerebrale. a mezzanotte e 40 arriva la torta nuziale dopo la torta la luna di miele dopo la luna di miele per marito e moglie comincia la vera vita matrimoniale che consiste normalmente di tre momenti le pulizie settimanali la spesa al centro commerciale e i rapporti sessuali. Di solito in una normale coppia sposata queste tre cose si fanno tutte al sabato. il giorno più terribile della settimana sabato mattina ore 7, 7 meno un quarto lei la moglie spalanca le finestre anche se dicembre anche se il marito la pronunca polmonite anche se indossa solo il pigiama la moglie si mette a cavallo dell'aspirapolvere che fa un rumore appena percettibile i più evoluti sono anche le marce a doppia frizione e attraverso l'aspirapolvere sfoga le tensioni settimanali con una esteria di fondo infatti sabato mattina normalmente l'uomo va a lavare la macchina non perché ne senta proprio la necessità ma perché deve trovare qualcosa a fare fino a luna quando la follia antibatterica della moglie vuole al termine il pomeriggio si va al centro commerciale per andare al centro commerciale la moglie si trucca come una pache sul sentiero di guerra il marito si mette una tuta marrone un po' sgualcita un sabato in tuta un'ora per fare la spesa tre ore per pagare la cassa uscendo la moglie spinge il carrello alzando un po' le ginocchia se per l'occasione ha messo i tacchi alti dietro di lei il marito porta l'acqua giustamente suona le campane dietro di loro il figlio stremato da tre ore di coda alla cassa vaga con un'espressione di questo tipo dietro di loro c'è anche il nonno che dice siete dei drogati il figlio resta fuori col nonno a giocare marito e moglie tornano a casa per ottemperare al dovere settimanale fare l'amore nelle coppie diciamo abitudinare al sabato si fa l'amore consumati dall'abitudine a volte senza neanche spogliarsi completamente l'uomo si abbassa la tuta ad altezza ginocchio sempre tenendo l'acqua mentre fanno l'amore la donna dice stasera facciamo i sofficini e il marito memore dal giorno del matrimonio risponde nel frattempo rientra il figlio col nonno e si va tutti a cena in un'altra stanza dopo cena anche se il marito ha appena mangiato continua a consumare tutto quello che è rimasto in frigorifero e poco alla volta coltiva una pancia che però non è una di quelle belle pance tese verso l'orizzonte che hanno anche qualche cosa di ottimistica una pancia molle con l'ombelico che fa bungee jumping invece con i figli in casa è difficile lasciarsi andare ogni tanto quando ero bambino i miei genitori si chiudevano in camera e dalla porta dei miei sentivo mio padre che gridava urlava ansimava allora mi preoccupavo andavo davanti alla porta dicevo papà mamma cosa c'è mia madre c'è niente papà che sta riposando allora ho sempre pensato che mio padre avesse uno strano modo di riposare perché uscivo dalla camera distrutto camminando così ma soprattutto non ho mai capito perché mio padre quando uscivo dalla camera avesse in mano dei sofficini grazie ci vediamo più tardi avesse in mano